Bentornati rica di un nuovissimo video di Fortnite Quest'oggi è un video molto semplice perchè andremo a fare una partita in solo Nel caso andasse particolarmente male ne andremo a fare una anche nelle 50 vs 50 Perchè voi lo sapete che praticamente io riesco a vincere solo lì Allora, non so se usare questa skin oppure quell'altra Quella della vichinga che ci sblocca sempre a livello 1 del passo battaglia Questa qua cacciatrice Vabbè dai si usiamo questa qua perchè ultimamente ho sempre usato quell'altra Quindi va bene questa Andiamo in modalità singolo Ma prima lo facciamo in singolo E poi vediamo se va bene o male In base a quello deciderò se fare anche la 50 vs 50 Ok, direi di andare a Tomeito Perchè ultimamente sono sempre là Sta diventando diciamo la mia città preferita Quella che un tempo era magazzino ammuffito Poi me l'hanno bombardata quindi Quindi direi di andare a Tomeito Eh, c'è un po' di gente C'è insomma Abbastanza È affollata quanto basta Speriamo bene Qua non vedo niente Eh, c'è questo stronzo che già mi vuole fottere la roba Eh, no Questa non è andata Poi così tanto bene Questo atterraggio non mi sembra Eh, le granate Oddio Vediamo qua dentro se c'è qualcosa di interessante Ma Ne dubito Esatto Non c'è una seghe Via, via, via Scappiamo Che qua Qua c'è un container Dove spesso c'è della roba Apriti Eh, ma stavolta non c'è niente Eh, lo sapevo Qua Un pompa Un pompa Bianco che fa schifo Però Magari mi basta per fare qualcosina Qua c'è qualcuno che sparava come una bestia Non so dove sia Spero non mi becchi Perchè non ho materiale Ho solo i mattoni per fare un solo muro Vabbè, ma non sparano a me Oh, ma qua non c'è niente O c'è sempre un sacco di roba Oggi non c'è niente E qua qualcuno Già buildato C'è qualcuno lì Vabbè, lo challenge No, troppo lontano Non mi va Vediamo se qua dentro c'è qualcuno Che ha voglia di feitare Dov'è? Lo sento ma non lo trovo Eccolo No Eh, vabbè Vabbè, vabbè Avevo solo un pompa Devo dire Ci siamo stati anche un po' sfortunati In questa partita Perchè comunque Non abbiamo trovato niente Vabbè, direi di farne una Nelle 50 Versus 50 Così magari Rendo questo video un po' Un po' vario Magari Ci metto anche qualcosa di buono dentro Che non fa male Speriamo di trovare una squadra forte Perchè, cioè Io vinco Se trovo la squadra forte Se trovo quella che fa schifo Non vinco neanche qua Cioè, per farvi capire Allora direi di tornare Nella mia vecchia città Preferito dove ci andavo sempre Con Giovanni Sponde del saccheggio Anche saranno cambiate Cioè, per caso Perché secondo me Era meglio prima Come posto Adesso le case Sono un po' diverse Potremmo andare anche A Borgo Bislacco Nuova Che è molto carina No, però mi sa Che ci vandrà un casino Di gente Quindi Direi anche no Vabbè Andiamo a sponde Ah, c'è un fulmine lì Potrei pensare di prenderlo Sì, vabbè Lo prendo Sapete che vi dico Poi vedo qualcosa Che mi sembra più interessante Mi sembra un assalto Un pompa È un pompa Vabbè Già meglio di prima Questo un bel pompazzo verde Ci fa comodo Dai Usiamo il carrello Per muoverci Vabbè La safe Ok dai Vicina Ah, stavamo Ho già fatto con la roba Vabbè Allora sai che vi dico Questo carrello Se ne va a fare in culo Vabbè SMG silenziato Bianco Purtroppo Però Va bene Vabbè Un bel pompuzzolenti Vabbè Non mi fanno impazzire Però Beh, bene Da prendiamole Perché Ci fanno sempre Comodo Ora Luttiamo sopra E poi andiamo Ah Qua ci sono le munizioni E le voglio Munizioni Dicevo Luttiamo qua sopra E poi andiamo a prendere Ehm Il fulminino Che c'è lì Mattoni Seconda kassa Dopo i pistoli Le prendere in posto di questo Perché a me le doppie pistole piacciono Vedo che nessuno mai le usa Ma a me piacciono le doppie pistole Vediamoci Vediamoci questa Sentiamoci le bende Qua il materiale è tutto Ora andiamo a prendere Il fulmine A posto 5 su 7 Io direi che ci possiamo muovere Verso la safe a questo punto Magari prendo il giro lungo Perché Non lo so se Non la vedo mio compagno Che va nel lago Quindi direi che possiamo andare Anche noi al lago Si dai Oh che cazzo è che spara Questo che fa Ah aspetta l'airdrop Bra Ah pistola pesante Oddio No vabbè dai Mi tengo questa Questo che c'ha Oh oh Lancia razzi Questo me lo becco io Grazie Te ne puoi andare Beatamente a fare in culo E anche il medico Me lo prendo io Sai bello Eh si Me lo prendo io Eh vabbè Ho smirato peggio Di un cane Perfetto Questo è andato Oh Che cazzo era quello Che era un nemico No non era un nemico Che cazzo mi spara Che cazzo è che mi ha fatto danno Allora Andiamoci subito Il medikit Che questo mi fa comodo Ma da dove sparano Questi stronzi Scusa Oh c'è un casino qua Che non sto capendo niente Vabbè andiamo in macchina Con John Wick Non sto capendo Da dove sparano questi Capito Ma quello è il problema No vabbè C'è troppo casino In questa safe Siamo anche Svantaggio come player Dov'è questo? Non c'è spuglio? Dov'è andato Questo stronzo? Ma l'ho preso almeno Eh no Sta minchia Oh Qua c'è gente che spara Perfetto Perfetto Qua c'è gente che spara Stai fermo Coglione Eh vabbè Lo sapevo che a curare questo qua Me la prendevo anch'io Là in quel posto Io non devo mai rianimare i nemici In questa modalità Non devo mai rianimare i nemici Che palle E ora siamo morti Perché nessuno ci rianima Che palle Eh questo qua è un nemico Ci finì Eh lo sapevo Eh lo sapevo Maledetti Oh veramente Mannaggia Mi ha deciso di curare questo Il mio compagno No Vabbè Me l'aspettavo come costo Peccato Vabbè dai peccato Torniamo alla lobby Eh peccato per questo video Perché ultimamente Sto migliorando veramente Riesco sempre a fare Più kill Ogni partita diciamo Almeno una kill Me la porto a casa E oggi invece È andata male Peccato Vabbè che è mattina presto Quindi sono ancora un po' rincoglionito Però Vabbè Pace Sarà per la prossima E vi ricordo Lasciate un bel mi piace Se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Per non perdervi altri video E noi siamo al prossimo video E ciao a tutti